E benvenuti alla Crazy Four Rally! Una gara all'ultimo sangue! E ricordiamo perché siamo qui! Un Tune Buggy del 1974! È una macchina di papà! Possiamo riprendercela insieme, come a vecchi tempi! Avete due giorni per filmare Andarmene? Torsillo ha perso la pazienza! Ti vuole prendere la carriola e a me vuole prendere la terra. Se voi ci ridate la nostra carriola, noi ce ne andiamo come se niente fosse successo. Altrimenti che fate? Altrimenti... Alfredo, come stai? Mi sento più ai piedi. Naturalmente, tesoro mio! Sono due ore che si chiuse in un frigorifero! Tornamento Tornamento Inferno